La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto con il fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo, davvero. Appena entrato in casa Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Disse fra se e se. Lo voglio chiamare Pinocchio, questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi, Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchi i ragazzi e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito chiacci di legno? Perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. smetti di ridere disse Geppetto impermalito ma fu come dire al muro. Smetti di ridere ti ripeto urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smise di ridere ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto per non guastare i fatti suoi finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento poi il collo poi le spalle lo stomaco le braccia e le mani. Appena finite le mani Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo si volto in su e che cosa vide vide la sua parrucca gialla in mano al burattino. Pinocchio rendimi subito la mia parrucca e Pinocchio invece di rendergli la parrucca se la mise in capo per sé rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio Geppetto si fece tristo e melanconico come non era stato mai in vita sua e voltandosi verso Pinocchio gli disse birba ad un figliuolo non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre. Male ragazzo mio male e si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito disse fra sese dovevo pensarci prima ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi e Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché infilata la porta di casa saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada faceva un fracasso come venti paia di zoccoli da contadini. Piglialo piglialo urlava Geppetto ma la gente che era per la via vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero si fermava incantata a guardarle rideva rideva e rideva da non poterselo figurare. Alla fine e per buona fortuna capitò un carabiniere il quale sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada con l'animo risoluto di formarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie ma Pinocchio quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere senza appunto smuoversi lo acciuffò pulitamente per il naso era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto il quale a titolo di correzione voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare e sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di rifarglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo andiamo subito a casa quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio a quest'antifona si buttò per terra e non volle più camminare intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi e a fare capannello chi ne diceva una chi un'altra. povero burattino dicevano alcuni ha ragione a non volere tornare a casa chissà come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto e gli altri soggiungevano malignamente quel Geppetto pare un galantuomo ma è un vero tiranno con i ragazzi se gli lasciano quel povero burattino fra le mani capacissimo di farlo a pezzi insomma tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio. e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto il quale non avendo parole lì per lì per difendersi piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiotando si augurato figliuolo e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene ma mi sta al dovere dovevo pensarci prima quello che accadde dopo è una storia così strana da non potersi quasi credere e ve la racconterò in quest'altri capitoli